Sono stato abbastanza saggio da restarmene isolato. In questa casa i visitatori sono rari. I miei nove gatti corrono come matti quando arriva un essere umano e anche mia moglie sta diventando sempre più come me. Per lei non voglio, per me è naturale, ma per Linda no. Sono contento quando prende la macchina e va a trovare qualcuno. No, dopo tutto io ho le mie dannate corse. Posso sempre scrivere delle corse, quel grande buco, vuoto, di niente. Ci vado per sacrificarmi, per mutilare le mie ore, per ucciderle. Le ore vanno uccise mentre aspetti. Le ore perfette sono quelle che passo a questa macchina. Ma per avere ore perfette devi averne di imperfette. bisogna uccidere dieci ore per farne vivere due. Bisogna soltanto stare attenti a non uccidere tutte le ore, tutti gli anni.